Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare due manuali di espansione, o per meglio dire, di ambientazione di sine requie della Serpentarium. Lo sapete, non l'ho mai nascosto, il mio gioco di ruolo in assoluto preferito. E andiamo a parlare del manuale degli Stati Uniti, dei nuovi Stati Uniti d'America, USA, e da quest'altra parte il regno di Osiride per quello che è successo nel regno d'Egitto, ve lo potete tranquillamente immaginare. Colgo l'occasione per ringraziare il Curte e la Serpentarium che mi hanno offerto questi due manuali e tanti altri che sto leggendo e recenziando ultimamente, della nuova ovviamente edizione di sine requie, che è un gioco di ruolo che ormai va avanti tipo da una ventina d'anni. Se sentite un po' di rumori, al solito scusatemi, c'è sempre la stampante che lavora da mattina a sera. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Sine requie USA e Sine requie Regno di Osiride sono due manuali di ambientazione fra i moltissimi che stanno uscendo appunto dalle menti malate, ma allo stesso tempo geniale e le adoro, del Moro e di Curte che stanno tirando fuori tantissimi manuali. E mentre faccio questa recensione da non molto, tipo da una ventina di giorni al massimo, forse meno, è uscito un altro manuale del Sanctum Imperium, la nuova Italia tra molte virgolette, dedicata ai Templari e vi ci porterò un video. Questi sono i primi due che vi voglio presentare, anche perché secondo me, insieme al Trono di Crisanteme e altre cose, sono quelli un pochino più evocativi. Perché parlando del primo, faccio un video veloce anche perché non ve li voglio spoilerare. Occhio, non è che non ve li voglio spoilerare perché sono cose segrete che deve leggere solo il cartomante, il Dungeon Master. Chiunque li legge, li potete leggere tranquillamente, tutt'al più se non volete far vedere cosa c'è dintro ai giocatori e fargliela giocare tutta in prima persona, magari non cercate spoiler e lo leggerà soltanto il cartomante, che in questo gioco è il Dungeon Master. Però fondamentalmente sono manuali che ti dicono vite a morte e miracoli, tutto quello che è successo e non trovate mai una scritta dentro con i giocatori non devono leggere questa parte, quindi è materiale pubblico. Però non vi voglio fare spoiler perché se uno se lo compra, se lo vuole anche leggere, è anche il piacere della scoperta. Quindi vi do soltanto qualche indicazione. Il primo, Regno di Osiride, ve lo potete immaginare. Se in Giappone c'è stato un grande terremoto e nelle isole del Giappone siamo tornati al tempo dei samurai, come difensore della terra in Africa e nell'Egitto, dove possiamo mai essere tornati, secondo voi, al tempo dei faraoni. Perché i faraoni si sono risvegliati dalle tombe, o meglio, quei faraoni il cui corpo poteva ancora reggere. Perché tanti faraoni ridotti a polvere o che comunque ladri di tombe hanno rovinato nel corso delle varie epoche, stesse epoche anche al tempo per farvi capire di Cleopatra o dell'antico Egitto, tanti corpi non si sono potuti risvegliare, ma alcuni dei più potenti sì, infatti i due più iconici sono Ramses III, o volendo era Messer, Ramsete, in tutti i nomi che viene chiamato, comunque Ramses III, si è risvegliato e ha fatto guerra agli altri faraoni che si sono risvegliati insieme a lui. Li ha distrutti tutti quanti, a parte Seti I, che è l'unica mummia faraone, anche lui, ancora in aperta competizione, e appunto in questa guerra con Ramses, che nel frattempo ha ritirato fuori la città di Tebe, ha buttato giù la diga di Aswan, non vorrei dire una cavolata, ed ha lasciato che il Nilo tornasse a discorrere per tutto quanto l'Egitto, tra l'altro un bel fischio della stampante ci stava ora, e siamo ritornati per quanto il mondo è andato avanti. Non puoi tornare al tempo dei faraoni, migliaia d'anni fa, nel 1956-57, però comunque la nuova tecnologia si è fusa alle antiche usanze dell'Egitto, e il nuovo faraone, Dio, praticamente imperatore Dio, sceso in terra, che è Ramses, si è auteletto come figlio di Amon-Ra, quindi del Dio del Sole, e allo stesso tempo incarnazione di Osiride. Quindi lui è un polivalente, perché nessun faraone dell'imperatore, faraone dell'antico Egitto, di tutte quante le dinastie, aveva mai fatto una cosa del genere, a parte il padre di Tutankhamon, Akhenaton. Lui, Akhenaton, aveva tolto tutto quanto il vecchio culto delle tutte le divinità, che c'erano, Anubi, Sobek, tutte le altre, la Dea Bastet, e aveva creato un unico solo Dio in cui lui si raffigurava, che era il Dio Aton. Cosa che invece Ramses non ha fatto, è tornata al vecchio culto, però mettendosi nei panni sia di Osiride, reincarnato, che anche di figlio del Dio del Sole, di Amon-Ra. E ritroviamo la Dea Mat, la Duat, insomma, tutta la cultura dell'Egitto è ritornata in questo impero fiorente e si vive bene. Per quanto ci sono gli zombie, per quanto il faraone, vabbè è una mummia, ma è uno zombie, per quanto questa cosa è molto velata e mascherata, però si vive realmente bene. Finché rispetti le usanze, finché rispetti il credo, finché rispetti il faraone, e finché magari chiudi l'occhio e te ne freghi se ogni tanto qualcuno viene rapito e divorato dalle mummie o cose del genere, fondamentalmente è un posto dove non si vive male, c'è lavoro per tutti e se hai soprattutto rispetto, fiducia e sudditanza e lealtà verso il nuovo faraone risvegliato, è anche un mondo dove si può vivere tutto sommato bene, con alti e bassi, luoghi di luce, luoghi di oscurità, però comunque l'Egitto è tornato al suo splendore e il faraone, che non parla tra l'altro le lingue di oggi, ma parla all'antico egiziano, infatti viene tradotto quando parla, perché la gente non lo capisce più, o almeno qualche studioso, che è una figata, mi piacerà morire, lui ha richiesto che tutte le opere venissero rimesse a nuovo, quindi le tre piramidi di Giza, Cheope, Kefren e Micerino, sono tornate all'antico splendore, fatte magari di marmo bianco che risplenda la luce del sole, o anche semplicemente è stato ristrutturato tutto quanto il tempio di Abu Simbel, quindi anche quello dove c'era il dioptan, l'oscurità in fondo e tutto quanto, è stato ristrutturato a nuovo. Se giri per l'Egitto del nuovo faraone, troverai un Egitto tecnologico fuso con i tempi nostri, vabbè, tempi nostri nel 1956, nel dopoguerra, però con lo splendore, veramente, dei tempi dove Ramses è vissuto, e quindi una figata assurda. Il secondo manuale, che io veramente adoro, se vedete il segnalibro è perché me li sto spulciando tutti mentre vi faccio le recensioni, sono praticamente, da quando me l'ha dati il curto e non faccio altro che legge, ma lui lo sa bene che questa è la mia ambientazione preferita, e io ci passo le giornate a leggere perché veramente l'adoro, più che altro perché poi c'è una cosa che vi dico in fondo, che me li ha fatti adorare questi ragazzi, non, sì, per le idee fantastiche e tutto quanto, però c'è una cosa molto importante in fondo, che me li ha fatti preferire a tanti altri giochi di ruolo, fondamentalmente. Questo ambientato nell'America, l'America ha un nuovo presidente. Dopo il giorno dei due soli, che è il giorno in cui due testate atomiche sono state sganciate su Washington e su New York, l'America ha visto un dopoguerra, dopo che il Quarto Reich, la Germania, dopo il 44, fallimento dello sbarco Omacabitch e fallimento di operazione Overlord, la Germania si è erogata il diritto di aver vinto la Seconda Guerra Mondiale. E sull'America, poco tempo dopo, mesi dopo, sono state sganciate due testate atomiche, quindi non sono mai state sganciate sul Giappone, sono state sganciate sull'America e le due città principali sono state distrutte. L'America, piano piano, dopo le radiazioni e tutto quanto, sta vedendo un nuovo sorgere di un sole, di una nuova nazione, forse il sogno americano, come mai si era visto, ed ha addirittura un nuovo presidente, nuovo presidente che si chiama, presidente, se non erro, Benjamin Clark. Del nome non sono sicuro, del cognome sì, ma mi pare si chiami Benjamin Clark. Il nuovo presidente, che è un presidente afroamericano, per farvi l'esempio, un po' come Barack Obama, uno dei presidenti più amati degli Stati Uniti, sposato con una First Lady caucasica, bionda, sono i nuovi presidenti e First Lady di quest'America, che sta nascendo, ed è ritornato veramente, veramente, veramente il sogno americano. Cioè, si rivive bene, c'è lavoro per tutti, non c'è sofferenza, non c'è criminalità, la polizia, in quel poco che capita, è molto efficiente, e gli investigatori privati non vanno a cerca di persone scomparse, ma di gattini scomparsi e cani scomparsi, talmente tanto si vive bene, e non c'è più pensiero. Gli zombie non ci sono più. In America non ci sono più i morti viventi, sono stati completamente debellati, voi dalle radiazioni, voi dalle testate atomiche e tutto quanto, gli zombie non ci sono più. Quindi l'America è proprio tornata, anzi, loro stranamente, ce l'hanno da morte con i tedeschi, con i nazisti, nazisti, scusate, non tedeschi, però allo stesso tempo li ringraziano come da una parte perché dopo queste due testate atomiche si sono raggruppati in due nuove città fondate, chiamate Life e Hope, dal presidente Clark, che vivono bene, vivono anzi molto meglio di prima della guerra. Quindi la situazione è completamente risolta in America e gli americani, talmente tanto è ricco il territorio, c'è da mangiare per tutti, terreno per tutti, hanno fatto tre navi da crociera, l'hanno mandate verso l'Europa e queste navi, una addirittura verso la Sicilia, e queste navi sono arrivate con i militari americani e imbarcano europei per portarli in America a vivere nel sogno americano perché c'è da, sì, ricostruirla all'America, però è già perfetta, è già molto meglio di prima e addirittura gli zombie non ci sono più. Potete dormire in un campo sdraiati fuori, non lo so, in un bosco, non succederà assolutamente niente, non ci sarà la paura di essere uccisi da zombie vaganti o altre creature uscite da chissà quale incumo. Però, bello, 20 pagine di manuale, è chiuso, in America non c'è più, hanno vinto la guerra, non c'è più niente, e invece no perché ci sono gli stati confederati del sud, senza spoiler ovviamente mi ricorda anche mia moglie, quindi vi faccio soltanto un'indicazione, ci sono gli stati confederati del sud dove è tornato in vigore più forte di prima il KKK, i Ku Klux Klan, quindi non vi sto nemmeno a dire cosa succede, ve lo potete immaginare, e sono loro a governare senza un presidente, non c'è più un presidente confederato come il vecchio Davis, però comunque sono tornati a governare gli stati confederati del sud, non c'è bisogno che vi dica con che idee razziali, con che violenza, con che assoggettazione del popolo americano, lasciamo stare, comunque ve lo potete immaginare. In più, a loro contrapposizione c'è la città libera di New Orleans, dove, ovviamente, chi comanda sono i Loa del Voodoo, le divinità del Voodoo, gli sciamani del Voodoo, e vi potete immaginare laggiù la religione, qual è Voodoo, Candomblé e cose, insomma, classiche, e sono in aperta competizione con questi stati confederati, però senza avere alcuna informazione su quello che al nord sta facendo Washington, New York e tutto quanto, nelle città di Life e Hope, sta facendo questo nuovo presidente Clark che ha salvato completamente l'America e l'ha resa veramente il classico posto dove trovarsi al pub, vedere una partita di baseball, berse una birra, andare a lavorare, tornare a casa magari dalla bella moglie o da un bel marito, avere una bella famiglia e perché no magari andarsi a fare una scampagnata nel dopolavoro o nel fine settimana, quindi comunque l'America è salva, a parte gli stati del sud. Quindi, questi due manuali e ragazzi, di questo vi ho raccontato il 30%, di quello di Osiride, di quest'altro vi ho raccontato il 2%, perché ovviamente fosse soltanto bello come si vive bene in Egitto, messo da parte e se fosse soltanto l'America ha vinto la guerra, non ci sono più zombie, sarebbe finito. Però, cosa, cosa possano aver tirato fuori delle menti malate come quelle della Serpentarium del Kurt e del Moro? Sono due manuali spettacolari che non vi devono mancare e volevo arrivare, a parte non vi sto a dire bellissimi perché lo sapete, le adoro. Si arriva alla valutazione finale che volevo soltanto darvi una piccola aggiunta perché io li preferisco a tanti altri giochi di ruolo che magari sono bellissimi perché ragazzi, a parte che questa è un'opera loro, la Serpentarium, tutti i loro giochi non hanno mai localizzato un gioco, li fanno loro, se li fanno in casa e danno delle belle idee, però perché io li preferisco a tanti altri prodotti magari a livello di ambientazione e tutto anche originali e singolari come questo. voi comprate questo manuale, comprate quest'altro manuale e tanti altri manuali e li aprite dentro non c'è una cavolo per non dire un'altra parola di regola. Non c'è un tiro di dado a parte nel regolamento per forza oppure qua giù trovate la possibilità di fare qualche classe in più che in America è diversa dal Sanctum Imperium. Siamo nel Medioevo in Italia praticamente o nel Regno di Osiride potete sicuramente fare un ex militare dei Marines capito? Quindi è normale c'è un po' di differenze però non ci sono regole sono manuali di ambientazione voi comprate un manuale di 100 pagine 90 pagine quello che è di ambientazione voi dovete conoscere loro puntano tanto sull'ambientazione infatti il regolamento di base di sine requie che ho già recensito sul canale c'ha due varianti c'ha la variante normale dove giocate con i tarocchi abilità contra abilità malus bonus e cose varie e poi la modalità che io preferisco quella narrativa dove si vanno a pescare i tarocchi e li andiamo a interpretare secondo le regole quindi già loro l'hanno voluto fare una modalità narrativa perché non ha voglia di ci sono dadi però di fare troppi calcoli c'ho l'abilità il nemico c'ha quello allora li devo tirare no c'è anche una modalità narrativa e i manuali sono pura narrazione voi andate a leggere un romanzo un libro di ambientazione senza regole ovvio vi dà qualche regolina ma proprio un pochino giusto il tarocco dominante di un nemico che dovete andare ad affrontare e poi è tutto da leggere quindi non è nemmeno pesante valutazione finale stravega positiva io ringrazio ovviamente il curto e il moro per avermi offerto queste due copie recensione e ragazzi se lo volete ordinare direttamente dalla gioco libreria semola che trovate in sovimpressione e in descrizione al miglior prezzo sul mercato mi raccomando quando fate un acquisto di giochi di ruolo giochi da tavolo e prodotti della GV sia un gioco da 120 euro un set base o un colore da 3 euro usate sempre il codice discount Coridan 7 tanto lo avete scritto anche in descrizione per avere uno sconto del 7% e per ordini superiore ai 70 euro non pagate nemmeno le spese postali se questi prodotti ce li dovrebbe avere ma se non li trovate scrivete direttamente una mail al supporto della gioco libreria semola Corrado il titolare guarda arrivo dal canale di Corian si possono avere questi manuali anche se non ce l'ha in lista lui farà il possibile per trovarveli al miglior prezzo sul mercato e anche lì ricordatevi sempre di usare il codice sconto Coridan 7 mi raccomando ragazzi Sine Requiem è un prodotto unico e spero quanto prima di portarvelo sul canale ciao ragazzi alla prossima